Un decalogo per la creatività Di Federico Faggin L'ispirazione deve essere espressa simbolicamente, per essere condivisa. L'ispirazione è un'esperienza privata che per essere condivisa deve essere trasformata in informazione simbolica. Il processo creativo che nasce dall'ispirazione deve sfociare in una realizzazione materiale sotto forma di parole, suoni, immagini o costruzioni fisiche. Questi sono simboli che comunicano il significato racchiuso nell'ispirazione.